Testa già a San Benedetto del Tronto per i rosso-blu chiamati al big match della dodicesima giornata. A Riviera delle Palme andrà in scena un vero e proprio spareggio per il team di Farina. Restare attaccati al treno promozione o staccarsi in modo definitivo o quasi. La squadra lo sa, come sa, di non poter ripetere la prestazione dell'Elvia Recina contro la maceratese onde evitare una nuova battuta d'arresto esterna. Farina potrà contare su tutti gli effettivi a disposizione e poter scegliere al meglio gli undici da mandare in campo. Ottimo lo spirito dell'ultima uscita contro il Giulianova, Minadeo e compagni sono scesi in campo con un unico obiettivo, portare a casa i tre punti a tutti i costi. La stessa determinazione andrà messa in campo domenica contro la vicecapolista del Girone. Ecco proprio la San Benedettese, squadra quadrata e costruita per il titolo. Cinque delle sette vittorie stagionali sono arrivate al Riviera delle Palme, dove il fattore ambientale gioca da sempre un punto decisivo. Davanti al pubblico amico il team marchigiano assume i connotati di un rullo compressore, con cinque vittorie su cinque e tredici gol realizzati, uno solo subito. Un cammino davvero importante che vale al momento la seconda piazza a meno tre dalla maceratese. Un cappostico per i lupi che dovranno sciorinare una prestazione perfetta sotto tutti i punti di vista. L'attesa cresce a dismisura anche a livello di tifoseria. Diversi pullman organizzati e i tifosi pronti a partire con mezzi propri. Inoltre da oggi è aperta la prevendita per i tagliandi della gara di domenica. Questo pomeriggio amichevole in famiglia al campo Acli per testare al meglio le possibili variazioni tattiche. Si parla di una possibile difesa a quattro con tre senior per offrire maggior manforte alla fase difensiva. A proposito della squadra, ai nostri microfoni il calciatore juniores Francesco Cianci. Sei entrato dal primo della ripresa al posto di Di Gioacchino, quindi si è rinunciato ad un difensore per una punta. Ti sei collocato proprio nel reparto offensivo oppure eri più centrocampista in quel momento? Il mister mi ha chiesto di attaccare allo stesso tempo, di dare una mano in fase difensiva. Quando abbiamo fatto il 2-1 sono diventato un interno e sono stato a centrocampo, facendo il terzo di centrocampo, come mi ha chiesto il mister. Sinceramente mi sto trovando da esterno e interno, piano piano cerco di applicarmi e di migliorare sempre di più facendo quello che mi chiede il mister. A San Benedetto sarà importante, sulla scorta dell'esperienza di Macerata direi l'approccio, la prestazione, perché a Macerata non vogliamo comunque rimangare brutti ricordi, però la prestazione non c'è stata. Va bene, il passato è passato, si pensa solo al futuro e si pensa a fare bene. Sicuramente giocare con la San Benedettese sarà una partita molto tosta, perché loro lottano per il primato del campionato. Noi cercheremo di giocarci l'avviso aperto, perché sappiamo che sarà una partita difficile davanti a quel pubblico. Già giocare in quello stadio secondo me sarà un'emozione incredibile. Però noi andremo lì, siamo un gruppo unito, sappiamo le nostre forze quali sono e cercheremo di giocarci l'avviso aperto.